Signore e signori, questa è la Urus, il nostro portafoglio prodotti si allarga per conquistare nuovi clienti ma sempre con un vettura che abbia una caratteristica con il DNA della Lamborghini. Siamo qui, qui nel cuore, nel cuore dell'espansione, nel cuore produttivo dove assembliamo la Urus. Eccoci, questi siamo noi, siamo quelli delle vetture che avete appena visto passare nel tunnel del DNA. La vettura raggiunge 305 km all'ora, è il SUV più veloce al mondo. Viva la Lamborghini, viva l'idea di una manifattura che non perde le sue radici ma che si trasferisce nel futuro con la tecnologia ma con il know-how antico di questi territori. Auguri a tutti e di nuovo, viva la Lamborghini! Welcome to Lamborghini, welcome to Santa Agata Bolognese. Today we're going to visit the Centro Stile to see the real Urus, then we will go to the production of the two super sports cars Aventador and Huracan and we will see the new factory of the Urus and the finishing line. Sirha is gonna visit the Centro Stile.